Presentata a Palazzo San Giacomo la prima prova del circuito europeo cadetti di spada in programma il 30 settembre e 1 ottobre al Palavesuvio. Si tratta di un evento molto rappresentativo in categorie giovanili, quindi Under 17, che ci siamo giudicati insieme al campionato europeo giovanile che si disputerà a febbraio all'ultimo congresso della Confederazione Europea. E' una vittoria molto importante per Napoli perché in questo modo Napoli rientra nel circuito internazionale della grande scherma con questa prova che vedrà coinvolti 160 atleti e una quindicina di paesi. Sarà un test event questo, utilizzato come test event per il campionato europeo, quindi è una prova, verranno gli osservatori della Confederazione Europea a giudicare la qualità organizzativa, per cui siamo molto fieri di aver portato questo evento a Napoli. La due giorni di scherma sarà anche test event in vista dei campionati europei giovanili che si terranno sempre a Napoli nel febbraio del prossimo anno. Sarà un test event per quello che sarà l'evento più importante, ovvero gli europei che ospiteremo a febbraio 2024. Sono particolarmente felice di questo tipo di prova perché è una prova che coinvolge i giovani, i cadetti sono Under 17, verranno ragazzi da, abbiamo saputo, 44 paesi del mondo ed è una bellissima soddisfazione. Soprattutto mi piace pensare, come ho sempre detto, che anche questa iniziativa a supporto della candidatura di Napoli a Capitale Europeo dello Sport sia un'iniziativa finalizzata soprattutto al coinvolgimento dei nostri ragazzi nell'ambito dello sport. perché sono certa e diciamo che lo Stato mi ha confortato, il Parlamento oggi mi conforta, nel senso di pensare che l'inserimento all'interno della Costituzione e soprattutto il riconoscimento del valore educativo innanzitutto e poi anche sociale dello sport, come dice il nuovo articolo 33 della Costituzione, possa essere davvero una strada, una strada che è quella che dobbiamo intraprendere tutti, cioè comprendere che per l'educazione dei nostri ragazzi e per dare una strada ai nostri ragazzi basterebbe davvero coinvolgerli di più e appassionarli di più allo sport perché sono certa e ormai li ho conosciuti in due anni, non esiste un ragazzo che pratica sport che sia stato tentato nel trovare la strada sbagliata, insomma quindi tutto quello che sta succedendo davvero ci deve ricordare come abbiamo una grande responsabilità ed io nell'ambito sportivo sento davvero di dovere fare e dobbiamo fare tutti di più per i nostri ragazzi e dobbiamo offrirgli quanto più è possibile un'offerta sportiva variata perché nello sport potrebbero e potremo trovare una risposta importante.